La sesta commissione dell'ARS presieduta da Giuseppe Di Giacomo si è riunita ieri nell'aula consigliare del comune di Taormina alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino, del commissario straordinario dell'ASP 5 Giovanni Migliore, di molti medici del nosocomio taorminese e di parecchi sindaci ed amministratori della zona ionica. All'ordine del giorno la necessità di una rimodulazione dei posti letto e dei reparti del presidio sanitario di Taormina nella logica di una spending review, dato che la spesa sanitaria siciliana, sino a qualche anno fa, presentava un deficit nell'ordine di un miliardo di euro. Il nodo principale della questione, oltre al numero globale dei posti letto di degenza ospedaliera, era la presenza a Taormina di due chirurgie, una di carattere generale e d'urgenza, l'altra di indirizzo oncologico, il che sarebbe in contrasto con tutta una serie di parametri dettati dalle linee guida con finalità di tipo socio-economico. L'ospedale di Taormina, al cui interno ricadono oltre 100.000 persone che risiedono lungo la costa ionica nella valle d'Alcantara, si amplia in maniera esponenziale nel periodo estivo per via dei flussi turistici provenienti da ogni parte del globo. L'intervento del professor Vincenzo Morici, primario del reparto di chirurgia generale e d'urgenza del San Vincenzo, ha sottolineato l'alto livello di specializzazione raggiunto da molti reparti a Taormina, veri e propri punti di riferimento e di eccellenza non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Pensiamo ad emodinamica o al reparto di otorinolaringoiatria retto dal dottor Antonio Pulito, nell'ambito delle ricostruzioni plastiche della laringe e del cavorale, all'elettrochemioterapia, al trepianto di midollo e osseo nel reparto di ematologia e all'ATAC per bambini che risulta essere l'unica nel meridione d'Italia. Il primario di cardiologia, Evola, ha voluto sottolineare la possibilità che l'emodinamica interventista possa essere di grande supporto alla neurologia in caso di ictus. Il primario di ortodopedia, La Manna, ha sottolineato la necessità di istituire un PTA, ovvero un punto territoriale di assistenza, che possa essere alternativo all'ospedale, mentre il dottor Grillo del 118 ha chiesto una diversa distribuzione delle ambulanze sul territorio. Un altro punto che andrebbe poi affrontato è quello della realizzazione di un'ele superficie, che comporterebbe un esborso di circa 400.000 euro, di cui il 20% sarebbe a carico delle casse comunali. Determinanti anche a supporto dell'ospedale di Taormina gli interventi del sindaco di Castelmola, Orlando Russo, e del primo cittadino di Letoianni, Alessandro Costa. Dobbiamo differenziare i tagli dagli sprechi. Altrettanto apprezzabile l'intervento del dottor Fleres di Roccalumera, che ha sottolineato l'importanza del mantenimento degli standard del plesso ospedaliero di Taormina per i comuni dell'Interland. Il dottor Giovanni Migliore, commissario straordinario dell'Asp 5, nel suo intervento ha anche posto l'attenzione sull'implementazione del numero dei degenti, grazie al ricorso al cosiddetto turismo sanitario già in voga in altri paesi e che potrebbe trovare a Taormina la sua sede naturale. Non dimentichiamoci che qualcosa del genere già avveniva in passato. L'assessore Lucia Borsellino, nell'intervento di chiusura, ha ricordato che nonostante i tempi di crisi alla provincia di Messina sono stati destinati 55 milioni di euro volti all'ammodernamento tecnologico e all'edilizia ospedaliera. La Borsellino ha inoltre sottolineato che un reparto di eccellenza di Taormina, la cardiochirurgia pediatrica, che attualmente opera in collaborazione con il bambin Gesù, verrà necessariamente accorpata nel costituendo centro materno infantile di Palermo. La stessa, nel riconfermare i reparti e il numero di posti letto per l'ospedale di Taormina, ha dato un termine di un anno entro il quale i primari delle due chirurgie, Taorminesi, generale ed oncologica, quindi Morici e Panebianco, dovranno portare dati convincenti al fine di mantenere in essere entrambe le unità operative.